E rimanendo a Park Avenue andiamo a far visita al Console Generale d'Italia, Fabrizio Di Michele. Entriamo, il Console ci aspetta. Console, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Partiamo subito da una delle sue recenti visite con Netticat, dove è emerso un dato interessante che l'Italia non è solamente lifestyle, ma può essere anche ben altro. Certamente che l'Italia non sia solo lifestyle, noi italiani lo sappiamo, non è sempre noto al mondo degli affari americano e new yorkese. Durante la mia missione in Connecticut ho incontrato il governatore e il presidente del senato statale e poi ho fatto una tavola rotonda con dei rappresentanti del mondo degli affari, quindi c'erano businessmen italiani, ma anche istituzioni e businessmen del Connecticut. E ho rilevato effettivamente con soddisfazione che esiste già una cooperazione abbastanza consolidata in settori di alta tecnologia, in particolare nel settore aerospaziale. Ma detto ciò, il potenziale di cooperazione è ancora molto ampio, quindi abbiamo avviato, dopo il mio incontro con il governatore, dei contatti istituzionali più regolari, dei canali istituzionali più regolari tra il Consolato e soprattutto l'ICE, l'Istituto Commercio Estero, con l'Ufficio dello Sviluppo Economico dello Stato di Connecticut. Adesso ovviamente ci saranno le nuove elezioni per la funzione di governatore, quindi dovremo aspettare qualche mese prima che la situazione si ristabilizzi, ma abbiamo creato quei canali che forse mancavano da un po' di tempo. Quanto reputa che sia importante aprire la nostra cultura, i nostri valori alle varie etnie? È chiaro che c'è ancora un'identità, è una ridentificazione delle entità molto forte e fa parte un po' di quello che gli americani definiscono Italian Heritage, questo legame profondo con la patria, con i propri valori, il senso della famiglia, del duro lavoro. Questi sono valori a cui sono profondamente legati e che forse li ha posti un po' più isolati, questo è questo che intende, rispetto ad altre comunità. Però devo dire che ormai con le nuove generazioni e con la progressiva integrazione delle nostre comunità italo-americane, questo tipo di fenomeno si va diluendo nel tempo e credo che è semplicemente un fatto generazionale. Aggiungo, e questo è un dato politico per quanto sia difficile per me commentarlo in America da diplomatico italiano, che è anche vero che gli italiani, soprattutto sulla questione di Colombo, gli italo-americani e soprattutto le grandi organizzazioni e associazioni, sono state un po' spinte a ritrovarsi da un lato politico che è quello opposto a quello della cancel culture o della walk culture, come viene chiamata qui. Però la mia esperienza mi dice che è molto difficile categorizzare le comunità italo-americane da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista politico. Il 2024 sarà l'anno delle radici italiane in Italia e secondo lei ci può essere un ritorno alle radici non solo biologico, ma intendo anche culturale, economico e sociale, che magari può dare un'ulteriore linfa? Forse la riscoperta delle radici potrebbe implicare un maggior contributo all'Italia. E questo possiamo immaginare potrebbe funzionare attraverso il turismo delle radici, ma anche attraverso una maggiore apertura, disponibilità a fare business in Italia o con l'Italia. Devo dire che questo è un tema, una sfida su cui sia io che molti miei predecessori ci siamo ingaggiati perché vediamo un grande potenziale. Però alla fine, io dico sempre, i businessmen italo-americani sono a tutti effetti businessmen americani e quindi vengono a fare affari in Italia se vedono possibilità e se, come sta succedendo, alcuni problemi strutturali della nostra economia vengono affrontati. Uno dei primi mi viene in mente è la lentezza della giustizia civile. Non per nulla il nostro governo è stato impegnato nella riforma della giustizia fino a questo anno ed è uno dei benchmark fondamentali del piano di resilience e recovery con l'Unione Europea. Qual è il suo rapporto con le radici? Beh, è un rapporto forte. Io sono nato a Palermo, anche se poi mio padre è di origine abruzzese, mi sono cresciuto in Sicilia e mi sento mediterraneo nel midollo. Anche quando si parla di tolleranza e apertura verso il diverso, il riconoscimento del diverso. In questo senso sono molto fiero delle mie radici. In conclusione, trattiamo un argomento a lei vicino, il basket. Quest'anno c'è un, credo che sia un record, con tre italiani nel draft NBA con la prima scelta assoluta. Questi tipi di manifestazioni, ecco, sono un vanto anche per gli italiani che vivono all'estero, magari vedere in uno sport americano dei loro giocatori protagonisti. Beh, sì, certamente. Anche perché l'Italia, rispetto ad altri paesi europei, è stata un po' sottorappresentata. Quindi, soprattutto per i fan del basketball, sono fatti rilevanti. Però, ecco, non esagerare la portata, perché ormai lo sport in America è talmente cosmopolita e le nazionalità e il background si diluiscono. Questa è un po' la verità. Certo, i tifosi italiani ameranno vedere giocatori italiani, come è già successo negli anni scorsi, esprimersi nell'NBA. Ma penso che, dal punto di vista, le sfide siano altre, in realtà, per l'Italia. E lo sport resta, ovviamente, un mezzo anche di promozione di un paese. Questo è evidente. Ma in questo senso abbiamo molto da imparare dagli americani, che hanno trasformato, trasformano ogni evento sportivo anche in un'impresa di business. E sanno come farlo fruttare e renderlo fruibile per le famiglie. Noi su questo avevamo molto da imparare. Grazie della sua disponibilità e mi auguro di vederla presto su Patrimonio Italiano TV. Grazie a voi, come sempre. Buona giornata. Grazie. Grazie.